Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qua per fare un percorso per i criceti. Il necessario è uno o due criceti o qualsiasi numero di criceti avete. Una ciotola con la quale faremo il punto di arrivo. Una scatola, in questo caso abbiamo preso una scatola che si apre e che ha tra l'altro un po' più fondo che andremo a utilizzare per fare gli ostacoli diciamo. Abbiamo dei fogli, tanti, moltissimi, lo scotch e due rotoli finiti di cartigenica o anche di più in base. E poi dei cartoncini a caso. Ah ecco, come ospite del video c'è mia sorella. Bene, cominciamo! E' un coltello. Iniziamo a... Apriendo la scatola. Allora, bene, iniziamo togliendo il doppio fondo a questa scatola. Questo doppio fondo lo toglieremo dopo. Allora, prima cosa, noi vogliamo fare un percorso a due piani. Questo qua sotto sarà il primo piano e questo qua il secondo piano. Di conseguenza andiamo ad incollare con lo scotch questo in modo che faccia un angolo e che lo regga. Bene, ora quello che noi vogliamo andare a fare è creare un tunnel che permetta ai nostri cricettini di entrare. E lo andremo a fare formando dei tubi con i fogli di carta, semplicemente. Grazie. 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 Una volta che abbiamo incollato tutto, quasi stagia scollando, dobbiamo fare un buco per collegarle per permettere l'entrata alle cricettine. E noi lo faremo qua. Chiediamo l'aiuto ai nostri fratelli perché non sappiamo usare un po' più bene. Bene, viene tipo così, se fossimo un po' più precisi verrebbe meglio, ma ci sia contenta nella vita. e niente, lo attacchiamo così con dello scotch. Bene, ora l'abbiamo anche attaccato. Non ci resta che fare gli interni, quindi tipo gli ostacoli. Per farli usiamo il cartoncino che abbiamo trovato già all'interno e siccome ha un sacco di buchini inutili, lo foderiamo con dei fogli, più strumenti, magari due, in modo che diventi un po' più spesso. Ok, abbiamo cambiato location, ma nel frattempo abbiamo anche foderato il nostro cartoncino. Ovviamente potete foderarlo con qualsiasi cosa, ma noi abbiamo scelto la carta perché non è foderato. Adesso dobbiamo prendere la misura dell'altezza dei bordi. Bea, dimmi, quanto è alto? Forse è al contrario o meglio? Bea. 5? 5. E lo riperchiamo sui lati lunghi. Cioè, in questo senso. 5. Magari qualche segno si banca a metà così per fare delle rivedritte e non le proprie sui nostri soldi. E poi lo tagliamo per tutta la vita. E' questa lì. E' questa lì. la parte qua per evitare che si rivedrino qui. E prendiamo le misure. E per evitare che salgano prima della cover. Giusto. Bene. e ragazzi abbiamo fatto il separee, abbiamo anche cambiato un quadratura e adesso mettiamo la colla a caldo qua. Bene. Adesso che abbiamo incollato tutto, abbiamo deciso di creare qualche ostacolo, semplicemente arrotonando dei pezzettini di carta e poi incollandoli così, sperando che appunto i nostri tricetti siano abbastanza intelligenti da capire che devono fare questo lago. Cosa molto improbabile. Io direi di metterlo qua. Sì. Sì. Ok ragazzi, adesso metteremo questo muro per farle andare qua, che poi ci sarà questa casetta, in modo che poi ci si tufferanno dentro. E qua dentro ci sarà il premio, cioè il cibo che abbiamo già qua. Pronto qua. La casetta è finita, in realtà è venuta anche abbastanza bene rispetto a come pensavo, visto che è stata la nostra prima volta. E ora lo proviamo con l'efficietta strana prima. Ok ragazzi, abbiamo fatto, adesso metteremo Carlotta qua dentro. Vai. E già non entra. Ok, ok, ok. Devi andare dentro. Sei spaventata. Dove? Carlotta? Bene, è rimasto da qua. Dov'è? Ah, è perché c'è il coso. Dov'è? Qua nella... Nella... Igienica. Tenta che qua esce. Non sta funzionando. Apriamola. Mi vedi di qua da qualche parte? No, sta funzionando molto. No, sta funzionando molto. No, sta funzionando molto. No, si è girata di nuovo. No. Prendila. Fa paura. Vieni. E la facciamo incominciare da là. Vieni amore. Esci, allora. Cioè, hai paura e non esci? Hai paura e non esci qua. Ok. Incominceremo. Ti faremo incominciare da qua. No. Vai. No. Dai. Perché abbiamo dei ricetti stupidi? Devi andare. L'abbiamo pure messo i semi. Vai. Brava. No. No. Ma allora? No. Qua dentro. Qua. Ma è scema. No. Ma lei non vale. Lei non ci può fare. Qua. No, lei non... Ok. Ok, ce la sto facendo. Ok, brava. Brava. Vai su. No. No. Di qua. Ok. Non sta funzionando molto. Ok. No. 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 Non lo troverai. Però è troppo bello lo stato. No. Questo è fuori percorso. Ok. Devi andare di là. Girati. Non penso si riuscirà a buttare. Testa è ferma, eh. Ok. Non si butta, no. Non ci credo. No, no. Dai, fammi vincere. Almeno, buttati. Ma guarda, questa è santa. Beh, la Carlotta secondo me non c'entra manca. Ma si è incastrata. Ma dove? Qua. Si è incollata. Che cazzo, infile. Vabbè, basta. Questa ha proprio perso. Direi che Carlotta ha perso. Ok. No. Ok. Adesso, qua Carlotta mettiamo Mimmi. Direi che Mimmi è un po'... Già, non ci è passata Carlotta. Io direi di accorciare le sue cose. Direi di più. Ok. Ok. Facciamola partire da qua. Vediamo se lei va. Ok, lei sta andando. Ok. Ok, ragazzi. Lei è un po' più... Lei si è fermata. Vuoi? Perché hanno questi problemi con i tu? No, non ti girare. Ciao. Lasciala, lasciala. Vabbè. Ehi, te cosa c'è? Cosa vuoi te? Carlotta? Sì, non c'è. Mimmi. Sto scendo, sto scendo, piano piano. Vediamo se... Ecco. Guardala, 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 come vuole la carta. C'è delusione di gricciati. Ma noi prendiamo solo gricciati stupidi. Perfetto. Va bene. Eh, ora ci vuoi rientrare? Cioè, dimmi un po'. Dai. Dimmi sta cosa, Dan. Ok. 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 Lei però... No. No. Ok. No. Non è servito molto quell'ostaccolo, però vabbè. No. Di qua. Carlos? No, Mimmi. Devi salire. Ma riesci a salire almeno? No, non si torna indietro. È chiusa la strada qua. Chiusa. No, ti morde. Chiusa. Chiusa. Che casca. Ma abbiamo fatto tutto un percorso per niente. Mimmi. Metti la giacca là sopra. Vai. Bravo. Bravissima. Ok. Lei almeno sta andando di qua. No. Bravo. È la mia parte più crita, io sta. No. Di qua. Di qua. Di qua. Brava. Vediamo che se lei ci entra. Lei non si tornerà mai. Brava. Abbiamo l'incito. No, di qua, di qua, di qua. Ok. Ora volete vedere cosa succede se le mettono insieme? Vai. Ho un po' di paura. Mark è pronta a metterla. Ti mordono, eh? Si ammazzano. Si vogliono già. Loro si ammazzano e poi si ammazzano. Bene, può bastare. Ok ragazzi, il video è finito. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao, ciao.